Francesca Crespini, Assessore delle Attività Produttive. Pasqua con noi, è una tradizione per questo periodo dell'anno e siamo alla prima giornata. Sabato, domenica e lunedì, quindi con tutta una serie di iniziative e mercatini per ravvivare il Centro Storico. Sì, certamente inizia proprio oggi, alle 5 ci sarà l'orchestra, il concerto dell'orchestra della Cappella del Santissimo Sacramento, i mercati si sono aperti alle ore 9, c'è un buonissimo flusso di gente, siamo molto contenti, gli alberghi sono tutti prenotati, tutti esauriti. Questa sera ci sarà anche per la prima volta in questo contenitore uno spazio dedicato ai bambini per tre giorni, a Piazza Rinascimento, dalle 16, il primo spettacolo è 17.30, il secondo spettacolo ci saranno i burattini, quindi Pinocchio, Belle e la Bestia, speriamo così di fare sempre meglio e di fare un'offerta sempre più varia e variegata.